Ecco questa poesia che si intitola Ma se noi. Ma se noi facciamo un giro con la Vespa quando la scrocco a mio figlio e facciamo i lavoretti per pagare le bollette e ti preparo colazione con il burro di soia e troviamo le cose per terra e ci baciamo e guardiamo accendersi il campanile e ceniamo a un'ora qualsiasi con mozzarella e pomodoro e basilico ma se noi parliamo di tutte le cose del mondo e ci buttiamo sul letto a un'ora qualsiasi e facciamo l'amore e andiamo la sera nei posti dove si sente la musica gratis e ci mandiamo gli SMS se appena un giorno restiamo lontani e ci diciamo gli odori e ci diciamo gli altri amori ma se noi. la casa è piena di scatoloni e lo yogurt del discount da un euro al chilo a un'ora qualsiasi facciamo l'amore e ci addormentiamo nudi e ci stupiamo che sia passato il tempo ma pazienza lui passa noi per mano noi tu tu come puoi pensare che ci manchi qualcosa grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti